Tu proprio la roba che va contro i jet devi prenderla Ma sempre Ma perchè si, cioè... Non è possibile prendere No, non è possibile prendere No, no, non è possibile prendere Però se finiamo contro i jet E' un po' per il mondo 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 Ma ci sono un po' per il mondo Proverso Cheandonque Non è possibile prendere Per l'altro Mentre non è possibile 향are Per lo stesso Momakers È un po' per il mondo Concurso che hanno difficoltà Per forti Concorso che uno Helik Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.